Il rilancio dell'offerta turistica del Calatino, passando attraverso la creazione delle rete di impresa, ha lo scopo di valorizzare le potenzialità del territorio, sia con l'enogastronomia, sia con le risorse turistico-paesaggistiche. Questi elementi cartina del convegno, svoltosi nella sala riunioni Malerba Castel di Iudica, il dirigente della sorta di Caltagirone, Carmelo Nicotra. Vogliamo che il nostro territorio esca fuori dall'isolamento, tant'è vero abbiamo invitato anche gli esponenti principali dell'aeroporto di Catania e dell'aeroporto di Comiso ed esperti di rete di impresa, affinché il nostro territorio sia più visibile all'estero, sia più collegato e si possa anche offrire con rete di impresa e rete di territorio. Il nostro impegno continuerà anche in futuro perché abbiamo costituito anche un nucleo di imprenditori che costituiranno la prima di rete di impresa qua nel Calatino. Al convegno organizzato dalla SOT di Caltagirone nell'ambito della misura 311 del PSR 2007-2013 hanno preso parte numerosi relatori, tra cui esperti del settore finanziario per informare l'utenza agricola sulle nuove opportunità che gli istituti di credito mettono a disposizione di chi vuole investire nel comparto agricolo. Luigi Brandolani dell'area manager Unicredit di Ragusa. È da anni che si occupa dello sviluppo del territorio, ma non tanto nel suo ruolo tipico di partner bancario per le imprese e i piccoli operatori economici, quanto piuttosto come collante per lo sviluppo del territorio. Sul fronte della valorizzazione delle risorse turistiche dei 15 comuni del Calatino ha preso parte al convegno il presidente del GAL del Calatino, Alessandra Foti. Anche il GAL Calat partecipa sempre con interesse e attenzione a queste iniziative che vedono coinvolte le aziende del nostro territorio, le istituzioni e tutti gli enti che realmente vogliono costruire una rete, una rete del territorio del Calatino che possa promuovere la nostra realtà e che possa dare un contributo partendo dalle piccole cose a quello che è lo sviluppo dell'economia rurale delle nostre zone, della nostra Sicilia in particolare. Conclude il sindaco di Castel di Giudica, Pippo Grasso. Partire dall'aeroporto di Comiso per visitare tutti i nostri siti archeologici, per dare la possibilità di degustare i nostri prodotti tipici locali, ecco da qui se la gente ci viene a trovare e noi siamo pronti ad accoglierli, siamo preparati ad accoglierli nelle dovute, nelle giuste misure, nei giusti modi, io sono convinto che può essere un trampolino di lancio per creare economia, per creare sviluppo, quindi ecco seminiamo sviluppo, stiamo cercando di seminarlo, speriamo di poter raccogliere.